Buonasera, bentrovate. Salve. Vi raffigurate con questi meravigliosi abiti? Siamo le Dame del 300. Le Dame? Del 300. Bellissime. Chi ve li ha confezionati questi meravigliosi? Forse chiedo troppo, sono un ingreto. Siete bellissime. Grazie. Anche se stiamo in un portale del 700. Sarete qua anche domani sera. Ma il vostro compito prevalentemente è quello di attornare il Serildo Minova, che è il 300 come i vostri abiti. Meravigliose. Ci rivediamo lì allora. A domani sera. Auguri.